Buongiorno a tutti, benvenuti in questo super vlog, sicuramente avrete capito dal titolo di cosa si tratta, quindi non voglio fare un'intro super lunga, oggi verrà Caterina a farci delle foto, una ragazza super dolce con cui mi trovo veramente veramente benissimo, poi fa delle foto molto belle, e oggi ci siamo accordate per fare uno shooting super natalizio, sarà una cosa divertente, niente pose serie o altro, quindi spero che sia divertente anche per voi da vedere, e quindi ho deciso di fare un vlog dedicato a questa giornata, in cui appunto faremo questo shooting, non vedo l'ora, ora andiamo in maneggio, non vi spoilero niente degli outfit, tranne il mio solito elastico per i capelli natalizio, però adesso scappiamo in maneggio, vado a prendere la lova che ci aiuterà nelle riprese. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ma poi con la barba mi fai scassare Ma togliere la barba e fare dei primi piani? Sento barba Ah! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.